Ciao amici! Come avrete capito dal titolo, questo è un episodio che non potete perdervi se siete amanti della montagna e se ci tenete all'ambiente. Sto andando al Campiglio e poi a Livigno per i Barton Cleanup... Tra 200 meri alla rotonda... Ma perché parli sempre? Per i Barton Cleanup Day. Che altro non è che un'iniziativa che organizza Barton Italia, insieme appunto a queste località, per ripulire la montagna da quegli rifiuti che durante l'inverno magari creiamo e che sottovalutiamo appunto per la neve presente. Esci dall'inverno! Basta! Basta! Vi farò vedere quanti rifiuti produciamo purtroppo e quante cose riusciremo a tirar su e quanto dovremmo essere più consapevoli di quanto siamo un po' scemi in questi casi. È un'iniziativa aperta a tutti eh! Informatevi e seguitemi su Instagram perché nelle storie l'ho scritto più volte e potevate anche aggiungervi. Ora qua farò un sorpasso, per favore polizia non guardarmi, tanto è linea tratteggiata eh! Si può! Solita magia e in un secondo saremo a Campiglio. Pronti? Oh! Voila! Arrivato su a piedi eh! Adesso vi faccio vedere dove dormiamo. Al freddo, sotto il gelo. Lì, con le stelle lì, 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 dai, 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 vai Kilian Bragottet. Benvenuti al Barton Mountain Clean Up Day. Che meraviglia il grosso. Due foto alle stelle. Dai Roby. E a domani. Portatevi me, portatevi me, portatevi me. Ciao. Ciao. Non si può dormire in tendo così, con questi qua, non si può. Ma dai! A domani. Allee. buongiorno eh tollo cosi di prima mattina così ti riconosco no yoga ti muovi cosa fare a due ragazzini di 12 e 10 anni alle 6 di mattina ma non è vero ma hai dormito un po' lavori o no per una volta che fai qualcosa andiamo a pulire ragazzi Jacopo datti da fare non stai facendo niente sai come si chiama questa frase sfruttamento minorile vediamo una pulitina vediamo quanta monnezza riusciamo a tirar su quest'anno guarda Jacopo sfruttamento minorile giusto così bravi 3 2 1 posto fai contento di essere entrato nel mondo del lavoro 10 anni bene vai a lavorare Jacopo non è la gente che inquina ma va che lo vende Emma eh bravo Albi adesso tu dimmi quanto bisogna essere incivili a non finirla incredibile come si fa a buttare via una bottiglia di vetro dalla funivia come si fa voi che fumate cicche non vi sopporto non vi sopporto siete delle merda schifo fate le sigarette perché le sigarette? due metri in plastica due metri in plastica due metri in cicca ma si può ma si può sigarette siamo sotto dalla funivia fumate sempre col posaccelero e tascabile è la prima cosa intelligente che dici da quando ti conosco curiosità vai ma fai un mozzicone di sigaretta prima di decomporci del tutto assorbe 20 litri d'acqua quindi scioglie la neve porca p***a sono tantissime sai che non lo sapevo mi ha aperto un sacco ma lo metto dentro questa gente che costruisce pali in mezzo alla montagna non la capisco proprio io sei coglione tira su plastica tira su mozziconi un accendino molto bene come si fa a buttare un accendino dalla funivia quando l'hai finito butti la funivia per normale pezzi di plastica un bragotto nell'umido bisogna buttarlo venerdì e il sabato nell'umido anche la domenica ultimamente ma anche il mercoledì sera abbassano ormai che poi quello che non capisco è come anche lontani dalla funivia si trova a merda com'è possibile che ci siano rifiuti ovunque cos'è? un sacchetto nero sferrato dalla terra vuol dire che l'ha già proprio assorbente che schifo come fa la gente a buttare i sacchetti qua? guarda quanto è plastica sotterrata questa è qua da una vita perché come fa a essere così sotto? ma perché si biodegrada con la terra e comincia così però è plastica e quindi ci metterà 50 anni forse di più che dire? non dire bene pezzi di scherpone bottiglie di plastica vai Jacopo c'entra grande bicchieri di plastica bottigliette di plastica arema plastica fatevi le tette di plastica ma quelle non le buttano no? ma che carine quando sono tonde quelle delle tue fidanzate no le fidanzate sono perfette così ah è vero quando le toccate è vero sigarette numero 10.200 ci vorrebbe così poco vi comprate un posacenere di quelli portatili visto che fumate ma vi fa schifo l'odore di tenerle quando sono finite e buttate i muzziconi lì nel posacenere così vi tiene anche un po' l'odore di merda poi a fine giornata svuotate posacenere magari su un cestino e avete fatto del bene quanto ci vuole? niente oppure di fare come Jacopo di smettere di fumare e diventare nervosi per una settimana diglielo Jacopo la vera pulizia la si fa tutti i giorni giusto? mi rispondo da solo perché stai nella mente dal telefono ferro un pezzo di ferro plastica che sarà qua da 7 anni minimo che schifo fazzoletti da 60 anni questo un accendino American Football League probabilmente degli anni 80 pacchetto di sigarette ovviamente quando c'è l'accendino non può mancare il pacchetto di sigarette ma mi dico quanto poco ci vorrebbe la lattina sarà ma vero a parte gli scherzi guarda come si apre mai vista come si apre così ma veramente? poi sembra nuova guarda il colore come è rimasto paura guarda questo quello era da bere grappa tradizionale come si fa a buttar via una bottiglietta di grappa piena l'hai finita tu e ma c'è vabbè un'altra lattina qua un po' più recente che schifo signor Pietro Rota le comunico che abbiamo trovato il suo skipas della stagione 2011-2012 un po' di paura dei ma ce ne ancora questo qua c'è una lattina di sprite mangiata dalla terra ma non è vero pazzesco un adesivo di plastica di gente di Merano questo di Gruber sicuro bravo Simo un Enervit buonissimo fazzoletti ovunque che schifo pensate quanti anni ci vogliono per biodegradare anche solo un fazzolettino due metri bottiglia di plastica animali due metri colletto di carta animali qua è un fuoripista in salita come fa ad arrivare una bottiglia di plastica qua quanto bisogna essere incivili il prossimo che vedo che butta via qualcosa dei miei iscritti vi spezzo i polsi ve lo giuro questo che cos'è pezzo di cartone chiaro che mai pezzi di polistirolo a caso abbiamo dei posti che sono una meraviglia ci vorrebbe così poco per tenerli in ordine basterebbe un po' più di civiltà di senso civico basterebbe tanto così di ognuno di noi e invece ogni due metri e che campiglio è uno dei posti più puliti che abbiamo mai visto per fortuna siamo proprio degli incivili ragazzi meritiamo di estinguerci e che rimanga solo il genere animale vegetale tanto la natura vince sempre ricordatevolo daia cerchiamo di fare qualcosa di buono o no ognuno di noi che faccia tanto così che si porti le proprie carte a casa che non buttare le sigarette per terra dovrò mettere delle multe ma così poi non lo fate più davvero è che mi dico bisogna arrivare a dover dare dei soldi perché capiate di essere degli incivili cioè questa è piena vabbè ma se poi sono in uno dei posti più lontani dai rifugi e più lontano dalla funeria animali che non siete altro animali guarda merda per tutto che schifo questo avrà la mia età magari fosse degli animali mi Ugo è molto più pulito ed educato eh l'ho educato io ma ma quanto mi manca quel cagnolino che si è in giro una settimana arrivo Ugo eh era buona la velocina la mattina bisogna buttarla qua e cacare bisogna buttarlo qua si soffia il naso e poi si butta via mamma ho una paura dei serpenti vabbè vorda 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 mi chiedi plastica ovunque moriremo sotterrati dalla plastica poi moriremo tutti la natura si riprenderà e ritornereà essere come prima ovvero meravigliosa ma l'avremo distrutta noi ah distinguiamoci per piacere ci sono dei pezzi di plastica che iniziano ad essere mangiati dalla terra sapete dove va a finire? nella vostra bocca tappi bene poi le mangiare gli uccellini e muoiono e più ci si avvicina al rifugio più è devastante ogni 30 centimetri dove la gente si ferma per mettersi degli attacchi o allacciarsi di scarponi si trova di tutto va che roba incredibile tutto un metro basta fare va 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 cannucce cannucce plastica altro pezzettino di ketchup sicuramente le bottigliette mi danno fastidio le lattine mi danno fastidio difficile che una persona fai a sciare con una roba così sotterrata o con dei pezzi di ferro così pazzesco comunque facciamo schifo Jacopo non così così ma Jacopo è vero che quando non hai il porta sigarette te le metti su per il rifugio sigarette ma quante ce ne sono rifugio sigarette i posaceneri saranno a un metro chiaro e ovviamente più siamo vicini allo snowpark che è lì più merda c'è fatevi due domande ma come si fa come si fa incredibile non voglio sapere il numero di sigarette che ci sarà per terra vergogna lattine praticamente da quello che ho capito adesso la sbottiamo qua davanti e va via con l'aria di là vola via di là perfetto ma non ho chiesto piccolo ho chiesto uno sciottino mi hanno dato questa salute salut ma casa Jacopo andiamo a Bormio tu vai a Bormio io vado a Braulio differenziata andiamo al bar dai che casino vale ma dimmi te una mezza giornata 100 sacchetti animali come striscia Jacopino e anche l'american gold quella black tutte celebrare salute salute grazie Jacopo ok dopo essere scappati da Campiglio e dopo averla ripulita per bene come avete potuto notare in una mattina neanche abbiamo tirato su una quantità di sacchetti incredibili andiamo a fare la stessa cosa a Livigno solita magia in un secondo saremo al Mottolino pronti? allee voilà bella vita non mi fa niente sorridi e basta benvenuti a Mottolino non ti avevo mai visto a Livigno prima d'ora dai in pratica siamo qui come ieri a Campiglio a fare la stessa identica cosa ovvero a dare un'eripulita a tutta questa cosa qua però visto che sarà praticamente uguale vi faccio vedere il finale su cosa riusciremo a raccogliere comunque siamo un botto di gente che oggi cominciamo bene ale bello questo vedete il clean up possono farlo anche donne in stato interessante brava Elena almeno qualcuno in Barton che lavora animali Simon 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 ma Gruber perché non si gira Simon guarda lì tutto nero incazzato come al solito Simon Gruber ma Gruber ma guarda te eccolo oh vieni qua Simon vieni qua vieni qua Simon dai Simon dai ciao Gruber ciao c'è questo inverno che carino quando sta nel suo nel mare di Mary abbiamo finito non ti vedo più per un po' speriamo speriamo bene finalmente voilà come avete visto e come detto Barton organizza questo evento una volta all'anno in varie località di montagna Ugo dai 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 e come avete potuto notare no la lucertola dopo stai male e come avete potuto notare si trova una quantità di rifiuti incredibili in un brevissimo tratto di pista l'evento è aperto a tutti vi invito a iscrivervi al canale appunto per restare aggiornati perché così potrete partecipare anche voi e rendervi conto insieme a me di quanto siamo degli animali come ho già detto la cosa che vorrei sarebbe che non ci fosse bisogno di eventi simili e che ognuno di noi fosse più consapevole della natura che ci circonda e di quanto poco basterebbe per far del bene soprattutto in montagna ragazzi facciamo schifo ve lo dico mi metto in prima persona siate più consapevoli come al solito vi invito a seguire su instagram se volete vedere le foto che faccio i miei ultimi lavori e vedere le storie giornaliere di dove sono e magari fare un giro insieme o versi due birrette ma cosa importantissima iscrivetevi al canale per restare aggiornati con tutti i video che faccio quelli estivi e quelli invernali bravo con la pipì sul campo da calcio bravo nel mio piccolo spero che questi video possono servire a qualcosa soprattutto questo alla montagna tengo più di ogni altra cosa dovreste tenerlo anche voi perché si parla di ambiente e senza di esso non ci sarebbe più né la neve né lo snowboard né nulla anche per questa volta è tutto ci vediamo alla prossima che spero sia presto ciao ragazzi andiamo scoreggia